M.N. Sembra non lasciare dubbi l'incisione trovata nell'urna scoperta dietro una parete della Malatestiana di Cesena, all'interno della quale potrebbero esserci i propri resti di Malatesta Novello, il fondatore della biblioteca morto nel 1465, la cui lapide venne collocata nella storica Aula del Nuti nel 1812. L'urna ha quindi riposato più di 200 anni prima di essere risvegliata grazie al progetto di indagine archeologica condotto dal paleontologo Francesco Maria Galassi. Dopo i primi riscontri avvenuti nella mattina dell'8 febbraio, i ricercatori hanno inizialmente provveduto ad accertarsi che dietro la grande lapide di pietra ci fosse veramente qualcosa da portare alla luce. Questo è avvenuto per mezzo di strumenti capaci di osservare al di là delle pareti senza danneggiarle. Una volta ottenute le necessarie garanzie, sono incominciati i veri e propri lavori di rimozione. Tante erano le incognite prima di effettuare l'apertura della lapide, domande che a dire la verità non hanno ancora avuto una risposta completa per la quale bisognerà aspettare le analisi dei prossimi giorni effettuate sui resti contenuti nell'urna. Oggi effettueremo il primo studio, effettueremo successivamente dei micro campionamenti di tessuto che ci permetteranno per l'appunto di valutare l'antichità di questo reperto con l'esame del radio carbonio. L'obiettivo è di ricollocare i resti all'interno dell'urna e all'interno del luogo di sepoltura quanto prima, ma per questo dobbiamo definire con la biblioteca e con la soprintendenza che ringrazio per la grande disponibilità. Questo è un esempio di grandissima sinergia fra varie anime della comunità cesenate e anche dalla soprintendenza di Bologna.